Premio alla sicurentà Pippo Bertoni, non potevamo dare ad Augusta un nome diverso. Tu papà è stato veramente un simbolo, tutti lo ricordano per tante sue qualità. Ricordiamone qualcuno, facciamo un breve, facciamo conoscere Pippo Bertoni e chi non lo conosce. Secondo me si può richiudere in due parole, la bondà e l'onestà. Questo era quello che mio papà fino adesso, molti amici, molte persone lo ricordano. Quali erano le sue attività, in che cosa si direttava? Lui diciamo che nella vita ha fatto un lungo percorso, staremo qua un po' a parlare, ma quello che era ben conosciuto era la vita da ristoratore e da artista come pittore. E ci sono alcuni suoi dipinti anche che sono in gallerie prestigiose? Mi ha avuto il piacere nel 1998 che un'opera sua è andata alla Galleria Hermes di New York. E poi questo sarà anche un premio, ma non lo diciamo, non ne parliamo di questo. Questo premio della Sicilietà ha una genesi un po' lunga. Quante edizioni ci sono state e chi sono stati premiati? Parliamo dell'Albo d'Oro. Allora, questo premio nasce da vent'anni che è in tour per la Sicilia. Premia i siciliani di Sicilia e i siciliani della diaspora. Quei siciliani che hanno potuto fare le valigie, come hanno potuto fare gli emigranti, di andare fuori da Sicilia per diventare, tra virgolette qualcuno, ognuno nel proprio campo. Nel 2004 si è rinforzato molto questo premio sotto la regia e l'aiuto di Gilberto Idonia e di Flamina Beffiore. Da dieci anni percorriamo un percorso tra i teatri di Segestia e il teatro di San Lorenzo a Marzamemi. L'anno scorso, grazie all'ammiraglio Roberto Camerini, abbiamo avuto l'occasione di farla ad Augusta. Visto il successo lo scorso anno, l'abbiamo riproposto quest'anno ad Augusta. E da qui nasce il connubio con le Chivanis. Abbiamo voluto unire i due premi alla sicilianità e il premio speciale Pippo Bertoni e inserire questo Chivanis Children's Award che è al progetto appena sposato con il presidente e con l'ammiraglio Russotto e mi hanno emozionato perché andiamo a dare un premio a quei ragazzi. Ma ti dico una cosa, in questi giorni abbiamo scoperto che ad Augusta ci sono una marea di ragazzi. Noi siccome dobbiamo partire da dieci, come ha detto l'ammiraglio Russotto, per adesso ne sono stati segnalati dieci e da qui partiamo. Ma è un progetto a lunga scadenza, è un progetto che sicuramente questo premio, posso dire, che resterà ad Augusta. Sarò un premio della cittadina di Augusta. Oltre a premiare i siciliani, premeremo tutti quei augustani pian piano che negli anni, nel campo artistico, culturale, sociale, si sono distinti ognuno per la propria attività, diciamo. E quindi possiamo dire così che è un passaggio di testimone tra questi siciliani distinti, insomma valorosi, e queste emergenti eccellenze. Assolutamente sì. Io dico solo una cosa, che giorno 1 faremo un gran premio, tra virgolette. Un premio, una serata, che sarà, diciamo, la stiamo costruendo per restare nella memoria di tutto. Sarà un premio spettacolo. Un premio spettacolo. Non resta che andare a vedere. Questo sì, siete invitati. Saremmo al lido ufficiale della Marina Militare. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta l'ammiraglio Roberto Camerini. La Marina Militare verrà messo a disposizione quel luogo che è una terrazza sul Golfo Xifonio. Ed è bellissimo. 1 agosto, 20 e 30. Grazie.